Stare vicino ai piccoli imprenditori, sostenendoli, difendendoli e facendo insieme a loro un percorso di crescita. Con queste parole l'imprenditore Antonio Patriciello, il nuovo presidente dell'API Molise, ha aperto la conferenza stampa nella sede dell'associazione in via Cavour. L'API, l'associazione della piccola e media industria, abbraccia diversi settori, dall'edilizia al terziario al commercio. Patriciello è stato eletto per acclamazione e all'unanimità. Ora lo aspettano tre anni di lavoro, periodo in cui garantisce il massimo impegno. Il neoeletto ha presentato le linee programmatiche del suo mandato, due i punti prioritari per lui, il ruolo centrale dell'Europa ed i tempi di pagamento delle imprese da parte della pubblica amministrazione. Nel nostro mandato, che abbiamo discusso anche con i vicepresidenti e tutto col consiglio di amministrazione, vogliamo un attimo dare un pochettino più importanza all'Europa. Vogliamo intercettare tutte quelle risorse che possono venire dall'Europa e che oggi l'Europa, credo, rappresenti la maggiore fonda di investimento da noi. Quindi vogliamo intercettare tutti quei contributi che arrivano dall'Europa e farli in attimo nostri. Volevo cercare di aiutare l'impresa verso le pubbliche amministrazioni affinché i tempi di riscossione vengano ridotti al minimo. Infatti noi abbiamo lavorato come gruppo in Germania e in Germania i tempi di riscossione erano massimo 15-20 giorni. Noi invece parliamo di tempi biblici. Quello che vorremmo è quello di ridurre i tempi di riscossione. Ma le aree di intervento saranno anche altre. L'area di crisi, l'immigrazione, il turismo, i giovani e il lavoro. L'impegno quindi di Antonio Patriciello, affiancato dai vice Antonio Colarusso e Matilde Josue, la presidente uscente, è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo del territorio.